Diritto amministrativo video lezione numero 27. La responsabilità della pubblica amministrazione e i principi generali sulla giustizia amministrativa. La responsabilità. La responsabilità giuridica può essere civile, penale o amministrativa. In particolare è amministrativa se deriva dalla violazione di ogni sorta di doveri amministrativi ove sia prevista una sanzione amministrativa. La pubblica amministrazione può essere responsabile sia civilmente che amministrativamente. La pubblica amministrazione non può invece essere responsabile penalmente perché la responsabilità penale è personale e soltanto le persone fisiche possono esserne investite. Potranno quindi essere penalmente responsabili solo le singole persone preposte agli uffici o d'organi della pubblica amministrazione. La responsabilità civile della pubblica amministrazione. La responsabilità civile si può definire come il dovere giuridico imposto da un soggetto di risarcire il danno prodotto ad un altro soggetto in conseguenza della lesione della sfera giuridica di quest'ultimo. La responsabilità civile si distingue a sua volta in responsabilità extra-contrattuale, responsabilità contrattuale e responsabilità pre-contrattuale. La responsabilità extra-contrattuale si verifica quando un soggetto in violazione del principio del Neminem Ledere provoca a terzi un danno ingiusto, esenza nell'articolo 2043 del Codice Civile. La responsabilità contrattuale invece corre quando l'obbligo di risarcimento del danno deriva dalla violazione di un obbligo derivante da preesistente rapporto obbligatorio. La responsabilità pre-contrattuale invece nasce dalla violazione delle norme che regolano appunto la fase cosiddetta delle trattative negoziali. Nel prosieguo verranno esaminati i singoli tipi di responsabilità in cui una pubblica amministrazione può incorrere. La responsabilità quindi extra-contrattuale della pubblica amministrazione. Il fondamento della responsabilità extra-contrattuale della pubblica amministrazione si rinviene nell'articolo 28 della Costituzione ai sensi del quale i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Gli elementi della responsabilità civile della pubblica amministrazione sono quelli comuni ad ogni responsabilità civile. Il giudice dovrà accertare l'esistenza di una condotta attiva o omissiva, l'antigiuridicità di tale condotta, la colpevolezza dell'agente, l'evento dannoso e il nesso di causalità tra condotta ed evento. La responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione. Come già detto, la responsabilità contrattuale è quella basata sulla violazione di un rapporto obbligatorio già vincolante per le parti, sorto in virtù di un contratto ex legge di atto unilaterale o ancora in base ad un precedente fatto illecito. La responsabilità contrattuale da contratto qualificato. Si tratta di una forma di responsabilità di derivazione dottrinaria e giurisprudenziale secondo cui la sussistenza di un contratto qualificato che si staura fra amministrazione e privato attraverso lo svolgimento di un procedimento amministrativo fa sorgere alcuni obblighi di protezione in capo alla pubblica amministrazione. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione. Fra le ipotesi di responsabilità precontrattuale emergono la violazione delle norme imperative che pongono le regole di condotta che devono essere rispettate durante la procedura di evidenza pubblica, in tal senso consiglio di stato sentenza 4674 del 2014, il recesso ingiustificato dalla trattativa, la stipulazione di contratto invalido inefficace, la violazione e il dolo nonché colposa induzione in errore. La responsabilità dei pubblici dipendenti verso la pubblica amministrazione. La responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione. I pubblici dipendenti sono legati alla pubblica amministrazione da uno status particolare nei confronti dell'amministrazione medesima, ciò in forza dell'articolo 28 della Costituzione. Il pubblico impiegato può incorrere in responsabilità civile, responsabilità penale, responsabilità disciplinare, responsabilità patrimoniale riconducibile a quella civile, nell'ambito della quale è possibile ulteriormente distinguere tra responsabilità amministrativa e responsabilità contabile. La responsabilità amministrativa è quella in cui incorre il funzionario che per inosservanza dolosa o colposa dei suoi obblighi di servizio abbia cagionato un pregiudizio alla pubblica amministrazione. Gli elementi costitutivi di questa non differiscono dalla comune responsabilità civile con l'aggiunta però della necessaria presenza del rapporto di servizio. La responsabilità contabile è invece quella che fa capo a coloro che hanno il maneggio di denaro o valori pubblici. L'illecito amministrativo. La responsabilità per illecito amministrativo sorge alla commissione di un fatto amministrativamente sanzionato. L'illecito amministrativamente sanzionato può definirsi come quella violazione di un dovere generale cui l'ordinamento ricollega come conseguenza giuridica il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 10 euro e non superiore a 15.000 euro. Nel determinare il quantum dovuto l'autorità che irroga la sanzione deve tener conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attuazione delle conseguenze dannose della violazione, della personalità del trasgressore, delle condizioni economiche del trasgressore. Il procedimento di applicazione della sanzione amministrative è minuziosamente disciplinato dalla legge 689 dell'81 come da ultimo modificata dal decreto legislativo 150 del 2011 cui si rinvia. Principi generali sulla giustizia amministrativa La giustizia amministrativa. L'espressione giustizia amministrativa sta ad indicare un complesso di istituti assoggettati a discipline differenti di natura tanto processuale quanto sostanziale che raccoglie sia rimedi giurisdizionali sia rimedi giustiziali cioè di natura amministrativa. La giustizia amministrativa in Italia è organizzata secondo il sistema della doppia giurisdizione in base al quale l'autorità giudiziale ordinaria è competente a decidere delle violazioni di diritti soggettivi con il potere di disapplicare l'atto amministrativo che risulti illegittimo e di dichiararne la legittimità. L'autorità giudiziaria amministrativa è competente a giudicare delle violazioni degli interessi legittimi e ad annullare gli atti amministrativi illegittimi nonché in alcuni casi tassativi anche a sostituirli con altri atti o riformarli in parte. I confini di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sono attribuiti alle sezioni unite alla Corte di Cassazione. Il codice del processo amministrativo. Il codice del processo amministrativo del 2010 si colloca a fianco dei quattro codici fondamentali dell'ordinamento italiano civile, penale, procedura civile e procedura penale. Tra le linee di fondo che caratterizzano il nuovo codice si segnalano la puntuale definizione della giurisdizione del giudice amministrativo, la specificazione delle azioni esperibili innanzi al giudice amministrativo, la compiuta disciplina dell'azione risarcitoria, l'introduzione di un'articolata ed armonica disciplina relativa al procedimento cautelare, il definitivo riconoscimento della natura giurisdizionale del Consiglio di Stato quale organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa. L'attività correttiva del legislatore e le novità del 2014. Tra le novità introdotte dal Degredo legislativo 195 del 2011 si segnalano la previsione di una vera e propria sanzione pecuniaria in caso di liti temerarie, la rilevabilità d'ufficio della nullità degli atti processuali. Tra quelle apportate dal Degredo Legislativo 160 del 2012 invece rilevano ad esempio il nuovo regime della competenza territoriale del giudice amministrativo nonché anche l'ampliamento dell'ambito oggettivo del contenzioso elettorale. Con il Decreto Legge 90 del 2014 invece il legislatore ha previsto che a decorre dall'1 luglio 2015 sono soppresse le sezioni di staccate dei tribunali amministrativi regionali aventi sedi in comuni che non sono sedi di corte d'appello ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Il sistema della doppia giurisdizione detto anche doppio binario comporta che il giudice ordinario e giurisdizione in materia di diritti soggettivi il giudice amministrativo tutela gli interessi legittimi. Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo tar ha dito a esenzia l'articolo 9 del codice del processo amministrativo nel giudizio di primo grado il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio ossia direttamente dal giudice quindi pur in mancanza di una sollecitazione in tal senso della parte avversa. Nei giudizi di impugnazione invece la rilevanza del difetto è subordinata all'espressa attività della parte.